Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Vi do il benvenuto. Ancora sono un po' raffreddato e per questo ho chiesto al Monsignore di leggere la Catechesi. Stiamo attenti, che credo che ci potrà fare tanto bene. Grazie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dopo aver concluso la carrellata sui vizi, è giunto il momento di rivolgere lo sguardo sul quadro simmetrico che sta in opposizione all'esperienza del male. Il cuore dell'uomo può secondare cattive passioni, può dare ascolto a tentazioni nocive, travestite con vesti suadenti, ma può anche opporsi a tutto questo. Per quanto ciò possa risultare faticoso, l'essere umano è fatto per il bene, che lo realizza veramente, e può anche esercitarsi in quest'arte, facendo sì che alcune disposizioni divengano in lui o in lei permanenti. La riflessione intorno a questa nostra meravigliosa possibilità forma un capitolo classico della filosofia morale, il capitolo delle virtù. I filosofi romani la chiamavano virtus, quelli greci arete. Il termine latino evidenzia soprattutto che la persona virtuosa è forte, coraggiosa, capace di disciplina ed ascesi. Dunque l'esercizio delle virtù è frutto di una lunga germinazione, che richiede fatica e anche sofferenza. La parola greca arete indica invece qualcosa che eccelle, qualcosa che emerge, che suscita ammirazione. La persona virtuosa è pertanto quella che non si snatura deformandosi, ma è fedele alla propria vocazione, realizza pienamente se stessa. Saremmo fuori strada se pensassimo che i Santi siano delle eccezioni dell'umanità. Una sorta di ristretta cerchia di campioni che vivono al di là dei limiti della nostra specie. I Santi in questa prospettiva, che abbiamo appena introdotto riguardo alle virtù, sono invece coloro che diventano pienamente se stessi, che realizzano la vocazione propria di ogni uomo. Che mondo felice sarebbe quello in cui la giustizia, il rispetto, la benevolenza reciproca, la larghezza d'animo, la speranza, fossero la normalità condivisa e non, invece, una rara anomalia. Ecco perché il capitolo sull'agire virtuoso, in questi nostri tempi drammatici, nei quali facciamo spesso i conti con il peggio dell'umano, dovrebbe essere riscoperto e praticato da tutti. In un mondo deformato, dobbiamo fare memoria della forma con cui siamo stati plasmati, dell'immagine di Dio che in noi è impressa per sempre. Ma come possiamo definire il concetto di virtù? Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci offre una definizione precisa e sintetica. La virtù è una disposizione abituale e ferma a fare il bene. Non è, dunque, un bene improvvisato e un po' casuale, che piove dal cielo in maniera episodica. La storia ci dice che anche i criminali, in un momento di lucidità, hanno compiuto atti buoni. Certamente questi atti sono scritti nel Libro di Dio. Ma la virtù è un'altra cosa. È un bene che nasce da una lenta maturazione della persona, fino a diventare una sua caratteristica interiore. La virtù è un habitus della libertà. Se siamo liberi in ogni atto, e ogni volta siamo chiamati a scegliere fra bene e male, la virtù è ciò che ci permette di avere una consuetudine verso la scelta giusta. Se la virtù è un dono così bello, subito nasce una domanda. Com'è possibile acquistarla? La risposta a questa domanda non è semplice, è complessa. Per il cristiano il primo aiuto è la grazia di Dio. Infatti, in noi battezzati agisce lo Spirito Santo, che lavora nella nostra anima per condurla a una vita virtuosa. Quanti cristiani sono arrivati alla santità attraverso le lacrime, constatando di non riuscire a superare certe loro debolezze, ma hanno sperimentato che Dio ha completato quell'opera di bene che per loro era solo un abbozzo. Sempre la grazia precede il nostro impegno morale. Inoltre non si deve mai dimenticare la ricchissima lezione che ci è arrivata dalla saggezza degli antichi, che ci dice che la virtù cresce e può essere coltivata. E perché ciò avvenga, il primo dono dello Spirito da chiedere è proprio la sapienza. L'essere umano non è libero territorio di conquista, di piaceri, di emozioni, di istinti, di passioni, senza poter fare nulla contro queste forze, a volte caotiche, che lo abitano. Un dono inestimabile che possediamo è l'apertura mentale, è la saggezza che sa imparare dagli errori per indirizzare bene la vita. Poi ci vuole la buona volontà, la capacità di scegliere il bene, di plasmare noi stessi con l'esercizio ascetico, rifugiendo gli eccessi. Cari fratelli e sorelle, cominciamo così il nostro viaggio attraverso la virtù, in questo universo sereno, che si presenta impegnativo, ma decisivo per la nostra felicità. Grazie. 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 Grazie.